Buongiorno e benvenuti a questo grande spettacolo di calcio da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Siamo a metà stagione e le due squadre si trovano agli antipodi della classifica. Una partita già scritta Beppe? Parrebbe di sì Fabio, ma sono convinto che ci riserverà qualche sorpresa all'incontro di oggi. Nelle ultime partite il Milan ha giocato benissimo, sono fortissimi in tutti i rai. Sì, stanno attraversando un grande momento e anche oggi mi aspetto una partita di alto livello da questa squadra. Zambrotta C'è poco movimento dei compagni e non riescono a penetrare. Jankulowski Pato Il tiro è stato intercettato Rinvio di Amelia Buon colpo di testa Rossi Flocari Jankulowski Nesta Zambrotta Gattuso Prova ad andare Ronaldinho Il compagno sulla destra si libera e aspetta il passaggio Il compagno gli restituisce il passaggio Pirlo Qui potrebbe crearsi una situazione di pericolo Ha tirato proprio sul portiere Splendida questa parata Se no Tiameglia era nella posizione ideale per bloccare il tiro Libera il portiere Floccari Gattuso La palla è finita a lato Pirlo L'arbitro lascia proseguire l'azione Gattuso La difesa si allarga Possono far male Gattuso L'arbitro avrebbe potuto interrompere il gioco Ma ha preferito seguire la norma del vantaggio Ha fatto bene L'arbitro ha visto un fallo di mano Ma ha lasciato correre per la norma del vantaggio Ha fatto benone Modesto Floccari Milanetto Non riesce a controllare il pallone Gattuso La da destra si libera sulla fascia Allarga la manovra Palla fuori Flamini Val tiro Palla fuori Una schifezza Uno a zero Il risultato di questa prima metà di gara I portieri non sono stati molto impegnati in questo primo tempo Si è giocato per lo più a centrocampo Tutto è pronto per questi secondi 45 minuti di gioco Milanetto Palacio Ferma l'azione avversaria Prova ad andare Ronaldinho Jan Kulowski Il compagno sulla fascia destra si libera per il passaggio Restituisce la palla Ottimo questo lancio profondo Puntlar Interviene bene il difensore Umilia l'avversario Serve un compagno in prossimità della porta avversaria Fallo giusta la munizione L'arbitro conferma la nostra opinione E decide di ammonire il giocatore Si ci stava la munizione Dal movimento a bordo campo Pare che ci sia una sostituzione in arrivo Sta probabilmente cercando una marcia in più là davanti Ecco il tiro Parata in tranquillità però L'arbitro sta lasciando correre un po' troppo Questo era decisamente falle Palla rimessa in gioco dall'estremo difensore Flaminì Un compagno scatta sulla fascia destra Tiago Silva Restituisce subito il pallone Serve il compagno sulla sinistra Si stanno portando in avanti Jan Kulowski Flaminì Cerca la porta Conclusione imprecisa Una vera schifezza Ha avuto una grandissima opportunità Che non ha saputo sfruttare nel modo giusto Stanno cercando di chiudere definitivamente la partita Flaccari Flaccari Un passaggio davvero geniale Attacco in profondità Si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto Ed è riuscito a segnare E ora dovranno giusto a segnare la partita di Flaccari E ora dovranno giocarsi il tutto per tutto Partita più che mai aperta Flaccari 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 Rossi Palacio Ci giocheranno due minuti di recupero Niente da fare, la difesa è impenetrabile Bianculoschi Flamini Untlar Pirlo Lo coglie in un'ottima posizione E il difensore la fa sua Kershaw Zambrotta Nesta Bianculoschi Tiago Silva Cerca di controllare bene Ronaldinho I difensori devono tenere gli occhi aperti Palla nuovamente fra i piedi del difensore L'arbitro manda tutti sotto la doccia 2-1 il risultato finale Hanno giocato sulle ali dell'entusiasmo Si vede che hanno voglia di fare tutto molto bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti